Invece in Comune di Milano è stata esaminata questo studio bipartisan per il riutilizzo di San Siro, la ristrutturazione, se dovesse andare avanti? Io sono dell'opinione che sia la soluzione migliore, che si possa mantenere lo stadio a San Siro, poi non sono io a decidere se bisogna riutilizzare quello attuale, se bisogna farne uno nuovo, non è il mio compito, secondo me la collocazione lì è la migliore, poi non sono io a decidere, il sindaco in quel momento non ha raggiunto l'accordo con le squadre e si sono impostati dall'altra parte. Ma secondo lei l'amministrazione tomorale non si sta muovendo un po' troppo tardi? Non lo so, bisogna chiedere alle squadre di calcio.